Buono l'attacco di Baza, Ieris Baza in battuta. Ancora Ieris Baza alla battuta. L'attacco della seconda linea di Baza e va a terra. Battuta di Baza buona, ancora lunga in zona 5. Ricezione Baza sui 3 metri e grande attacco di Baza. C'è Baza, Baza che accelera il braccio. Poi Baza trova subito il punto. Gran punto di Baza, gran punto di Baza. Mura, ho intercettato a Mura. E poi... Precisa la ricezione di Pistolesi. Pistolesi in seconda linea. Difesa in qualche modo da Vicenza. Risponde il muro di Ieris Baza a Piacentini. A cercare l'attaccante ricevitore. Mura, il muro di Ieris Baza. Mura, il muro di Ieris Baza. Mura, il muro di Ieris Baza. E' un muro di Baza. Gran colpo, mani out di Baza, una ricezione ancora del libero di Alpino, in uno poi. Brava Baza, mani out. E poi il gran muro di Baza, Gini tenuto, poi c'è Baza, e Baza ancora, mani fuori. Stavolta è Lestini, prova Gatto, poi c'è la difesa di Eze, poi Baza, in parallela. Gran colpo di Baza. Baza, brava, Baza. Baza, il libero di Alpino, ancora, il pallone centrale. Il passaggio di Pai con il trattacco Rossini, gran difesa di Lestini. Cavalenca, diagonale, difesa da Eze, poi Rossini ancora. In parallela, Lestini difende, chiamata Cavalenca, difesa ancora di Eze, e poi Baza. E' gran colpo di Baza. E' gran colpo di Baza. E' gran colpo di Baza, che usa le mani di Gatto. No. Grande Jasmine, che salva questa battuta, che era a scendere per eliminare l'attacco della Baza. Poi ancora palla a Eze da Nardelli, intercettata dal muro, poi Baza ancora. E' gran parallela di Baza, gran parallela di Baza. Eze chiama Baza e Baza risponde. Grazie. 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 Grazie a tutti.